Si intitola ESCO, che poi altro non è che l'acronimo di estate a corte, e per i casalesi da tempo è un appuntamento fisso della bella stagione. Musica, teatro, letteratura e percorsi espositivi organizzati dagli assessorati alla cultura e alle manifestazioni della città di Casale Monferrato proseguono anche in questa settimana. Si è iniziato martedì 13 luglio con la conferenza mistica pittura, le allegorie di Orsola Caccia tra Mantova e il Monferrato, si proseguirà venerdì 16 con un doppio appuntamento. Alle 18.30 nel cortile di Palazzo Langosco ritorna un cocktail tra le righe, le presentazioni letterarie organizzate dall'assessorato alla cultura e dalla biblioteca civica. La protagonista sarà la vigna Orefici, che presenterà il suo Elisabetta II dalla A alla Z, un libro che racconta la vita pubblica e privata della regina più longeva del mondo. Alle 21.30 invece sarà la volta del concerto dell'Acoustic Art sugli spalti del Castello del Monferrato in occasione del simposio Scultura Sublime. In settimana sono però in programma altri interessanti appuntamenti come gli spettacoli della stagione teatrale estiva all'aperto, sabato 17 luglio ancora in scena e sempre a Palazzo Langosco il teatro. Con la strana coppia di Neil Simon, dalle 21.30 sul palcoscenico arriva il Teatro della nebbia che proporrà un grande classico della commedia. Nel fine settimana sarà anche possibile visitare le due mostre allestite nelle sale interne del castello.